Il regista ha ricevuto un messaggio commovente dalla figlia Asia durante la trasmissione sulla Rai Vieni da me Ciao papà, so che sei da Caterina. Volevo farti un saluto e una sorpresa. Sei il papà migliore del mondo. Non mi hai mai giudicato. Queste le prime parole di affetto inviate da Asia Argento al padre Dario nel corso della trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Balivo su Rai 1. È stato un anno difficile per me, ma anche per te. Ci ritroveremo a Natale e sarà bellissimo. Ti voglio bene, sei il migliore, ti stimano in tutto il mondo, ma nessuno ti ama come me. Il rapporto tra Asia e Dario Argento. Asia Argento, tra il 2017 e il 2018, è stata al centro dei fatti di cronaca per diverse questioni, prima la denuncia per le molestie da parte di Bob Weinstein, poi le accuse di Jimmy Bennett e infine la relazione con l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Il padre Dario, però, spesso ha difeso le figlie oggetto di numerose polemiche. A proposito della storia con Corona, Argento ha detto dalla Balivo. È stato un anno pesante per me e Asia, ne ho passate di ogni colore. Per lei ci sono state vicende che tutti sanno tra cui fidanzamenti, ma quando uno ama lo fa e basta. Asia non ascolta i genitori e i consigli, intervenivo, ma blandamente. Il maestro dell'orror ha anche confessato di aver avuto contatti con l'ex paparazzo. . Una volta ho parlato al telefono con Fabrizio Corona, ma nienti di che. Poi si sono lasciati subito, quindi è stato molto rumore per nulla. Asia ha un carattere ribelle, volitivo, assomiglia un po' a me quando ha questa forza e voglia di fare e imporsi. . Ha sbagliato tanto, io giudico, ma lascio agire. Credo che ora starà più attenta. C'è dell'affetto, dunque, tra padre e figlia. . E il messaggio inviato da Asia avvieni da me è un'ulteriore prova, vista la commozione del regista di Suspiria. Nel filmato, comunque, era presente anche la sorella dell'attrice, Fiore Argento. .